E' stata costituita la compagnia della Guardia di Finanza di Barcellona a Pozzo di Gotto mentre è stato soppresso il gruppo di Milazzo. Questo è uno dei passaggi della riforma dei reparti territoriali della Guardia di Finanza lungo la fascia tirrenica della provincia di Messina, operativa dalla data di ieri. Si tratta di un passaggio utile a rivisitare la struttura organizzativa dei reparti e le dipendenze del comando provinciale, adeguandola alle rinnovate esigenze di carattere operativo e logistico, nonché all'attuale contesto socio-economico, rimodulando di seguito gli assetti e le dotazioni organiche dei vari presidi. Con la riforma il gruppo di Milazzo è stato soppresso e a Barcellona a Pozzo di Gotto, già sede della tenenza, è stata costituita la compagnia. Una nuova localizzazione per adeguare le potenzialità operative del corpo in relazione al tessuto socio-economico e criminale dell'area barcellonese. In questo modo la Guardia di Finanza, da sempre attenta al territorio dell'Ungano, vuole porre maggiore attenzione su un centro nevralgico di sedi giudiziarie, quale la procura della Repubblica e il Tribunale. Negli ultimi anni sono state condotte numerose ed importanti operazioni di servizio a tutela della sicurezza economico-finanziaria, sia nel comparto delle entrate che in quella altrettanto strategico della spesa pubblica. Da qui l'avvertita esigenza di rimodularne la presenza ed adeguare le strutture organizzative al mutato scenario. In tal senso, peraltro, sicuramente di rilevo, la crescente connotazione turistica dell'area tirrenica con un considerevole incremento delle attività commerciali, in un contesto storicamente caratterizzato dalla presenza di strutturate organizzazioni criminali. Da qui la conseguente e condivisa necessità di consolidare la presenza delle fiamme gialle. In base al nuovo organigramma, la Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto coordinerà le tenenze di Capodorlando, Patti e Sant'Agata Militello. La manovra di riorganizzazione prevede altresì la dipendenza della tenenza di Lipari dalla Compagnia di Milazzo. La nuova configurazione territoriale risponde all'obiettivo di accrescere la qualità della presenza ispettiva e del livello di responsabilità sulla fascia di territorio tirrenica, ritenuta dal corpo di particolare interesse istituzionale.